25 sussidi economici consegnati a studenti iscritti all'Ateneo Aquilano grazie alla Fondazione Intesa San Paolo Ollus che ha messo a disposizione dell'Ateneo 40.000 euro da destinare a studenti con difficoltà di varia natura. Alla Fondazione Intesa San Paolo, che non lo fa solo con noi, lo fa anche con un certo numero di altre università, che intende in questo modo sostenere studenti iscritti, in particolare qui all'Università dell'Aquila, che abbiano una qualche forma di disagio, ma siano già bene avviati nel loro percorso di formazione. Quindi è una forma di contributo economico, ma anche di sostegno, diciamo, un sostegno anche morale al loro inserimento nel mondo del lavoro attraverso un percorso di formazione universitaria. Un contributo importante dato ai ragazzi dopo un'apposita selezione fatta da una commissione. Le domande, infatti, erano state circa 60. La Fondazione ha stanziato 40.000 euro che vengono divisi poi in 25 borse.